L'avvertenza degli ex lavoratori Aras e l'associazione regionale allevatori è stata al centro di una riunione della Commissione di Attività Produttiva del Consiglio regionale. I dipendenti dovrebbero essere assorbiti nell'organico dell'Agenzia Laore come previsto dalla legge regionale numero 47 del 2018. Al completamento dell'ITAR, emerso ieri durante la riunione, manca la firma del commissario dell'Agenzia Agricola Gianfranco Casu che è in attesa che il suo incarico venga confermato dall'Aggiunta regionale. Il decreto di nomina è stato firmato, ha spiegato Casu nel corso dell'audizione, mancano però alcuni passaggi che mi consentano di agire nel pieno delle mie funzioni, per questo serve un'apposita delibera di giunta. Il provvedimento, assicurato l'assessore all'agricoltura Gabriella Murgia, dovrebbe essere firmato nelle prossime ore. Quanto alle graduatorie, si legge una nota, quelle con l'elenco dei 220 ex lavoratori Aras da assumere sono pronte, per altri 25 lavoratori si sta predisponendo il bando per un concorso pubblico. In un anno non è stato fatto nessun passo in avanti, ha sottolineato il consigliere dei progressisti Gianfranco Sata. Dubito che il passaggio degli ex lavoratori Aras si possa concludere entro il 31 dicembre. Meglio chiedere una proroga di sei mesi prima di procedere alla liquidazione di Aras, in modo da mettere in sicurezza i lavoratori. La replica è arrivata dall'assessore Murgia, che ha sottolineato nessun rischio, i lavoratori potranno eventualmente essere assunti anche dopo il 31 dicembre. L'esponente dell'Aggiunta sull'Inas ha assicurato la continuità del servizio svolto dai tecnici lauree nel laboratorio di analisi del latte di Oristano. Su questo punto è in corso un'interlocuzione col commissario liquidatore di Aras per capire come agire, ha concluso l'assessore Murgia. Si ragiona sulla possibilità di prendere in affitto le attrezzature pagando un canone.